adesso proviamo con la molla originale si con la molla originale va meglio però allunga un po' di più però vedete che va su di giri magari anche la frizione che ho detto un po' che è consumata un po' però secondo me è proprio leggero di rulli comunque mi ha fatto la prova qui almeno avete visto faccio ancora un diretto e torno indietro e fate un'idea almeno noi abbiamo molti varmalossi con i rulli da 6 grammi e tutto dietro il gruppo originale compreso di molla ciao a tutti